ora prenderemo tutto nell'illuminazione della barna del cammelo incominciando dalla farmacia e prendiamo anche il banco dove fanno le zeppre e ci sono gruppi giganti guardate ora sono chiusi però poi guardate che sono belle qui abbiamo il gigante vedete che belle queste sono le portate per questo della madonna del cammelo iscriviti al canale per favore Grazie.